Termina l'incontro tra Dinamica Mantua e De Lunghi Treviso sul 76 a 69 per Treviso, vittoria importante per Treviso, esce da una piccola crisi, Mantua fatica e perde questa battaglia. Partita intensa nei primi due quarti dove Treviso chiude con un più 10, 32-42, Mantua a ritorno dello spogliatoio finalizza un ottimo break portandosi su un più 5. Da lì Treviso sale a ritorno in cattedra con le giocate di Brown, e ho giocato in Bro, autore di 23 punti e con una altissima percentuale del tiro da tre punti. Mantua purtroppo nel corso della partita perde il vincato per un infortunio alla caviglia, speriamo che non sia nulla di grave e la sua mancanza sicuramente si è fatta sentire sul gioco di tutta la partita. Mantua riesce comunque a testa alta perché è una squadra che non molla su ogni pallone, lotta e vuole cercare di finalizzare ogni possesso. Ora testa la prossima partita dove Mantua farà visita a una piacenza, sicuramente una piacenza in difficoltà nelle ultime partite, però anche Mantua sperando a tenere il recupero di vincato ha qualche difficoltà. Grazie. Grazie. Grazie.